Bentornati su My Todo Jersey. Oggi vedremo insieme la terza maglia dell'Arsenal per la stagione 22-23, la prossima stagione, nella versione FAN. La terza maglia da calcio Adidas Arsenal 2022-23 è principalmente rosa chiaro. È la prima maglia rosa in assoluto della storia del club di Nord London. Ufficialmente il colore principale è Clear Pink. Clear Pink è lo stesso colore utilizzato dall'Adidas per l'Inter Miami nella loro stagione inaugurale. I loghi sul davanti della terza maglia dell'Arsenal sono neri. Questo modello è arricchito dai cosiddetti ermellini che si vedono spesso, ad esempio, sugli stemmi. In questo caso è derivato dal vecchio stemma dell'Arsenal. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Wow! Incredibile! Secondo me questa maglia è veramente molto bella. Nella mia personalissima classifica prende 4 stelle ed è incredibile che si trovi al costo che vedete qui sopra a meno di 13 euro. Meno di così, non so, sfido a trovare di meglio. Peraltro in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. È fatta veramente molto bene, con una spedizione molto veloce. Vi invito a provarla. Vi invito peraltro ad utilizzare i link che trovate qui sotto per avere un coupon di 3 euro e per aiutare il canale in prossima ad avere altre maglie, acquistare altre maglie e fare prossime recensioni. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.